Aspetto. L'Australian Silky Terrier appartiene al terzo gruppo dei Toy Terrier FCI. Cane tarchiato, compatto, tozzo di piccola taglia. La testa è di media lunghezza con cranio piatto e mascelle forti. Gli occhi sono scuri, piccoli, di forma rotonda. Le orecchie sono piccole, di forma triangolare, sottili, attaccate alte, erette, con le estremità rivolte verso l'alto. Corpo moderatamente allungato. Il torace è profondo e ampio. La schiena è dritta. Il lombo è forte. Gli arti sono di lunghezza moderata. I piedi sono piccoli, rotondi, compatti, con unghie nere. La coda è tagliata e portata dritta. Il pelo è fine e setoso. La lunghezza del mantello è di 13 al 15 centimetri. Lungo la spina dorsale, dalla base delle orecchie alla base della coda. Sulla parte inferiore degli arti il pelo è corto. Il colore del silky terrier è il dorso nero. Blu con fulvo o blu grigiastro con fulvo. La razza contiene non solo il blu con un colore fulvo, ma anche rosso e sabbia. I cuccioli nascono quasi neri e cambiano colore con l'età. Altezza dei maschi. 23 al 26 centimetri, femmine, un po' meno, peso, circa 4,5 chilogrammi. Tratti distintivi del carattere. Lo standard di razza descrive il temperamento ideale dell'Australian Silky Terrier come vigile e attivo. A loro piace avere l'opportunità di correre e giocare, ma hanno anche bisogno di avere un cortile ben recintato. Godono anche di passeggiate e giochi con la palla. I silky terrier possono vivere bene in un appartamento, sebbene siano anche razze domestiche attive. È importante tenerli occupati e socializzare per evitare la noia. In un sondaggio condotto da DOS 101, 91 cani di piccola taglia sono stati valutati per la loro capacità di apprendere rapidamente e classificati tra i primi venti. L'addestramento può essere difficile, tuttavia, poiché questa razza è spesso testarda e volutamente ribelle. Sono più indipendenti di altre razze giocattolo, ma sono anche affettuosi e fedeli ai loro proprietari. Abbaiano volentieri, soprattutto quando incontrano estranei. L'Australian Silky Terrier è una razza di cani decorativi. I terrier di serpente in miniatura, sono ottimi compagni con un carattere docile, adorano tutti coloro che li trattano con simpatia, sono amici dei bambini. Nonostante le loro dimensioni, sono vigili guardiani se addestrati in questo lavoro. I cani intelligenti, socievoli e divertenti hanno uno svantaggio. La passione per scavare buche. Punti salienti e fatti interessanti. L'Australian Silky Terrier è un incrocio tra i terrier australiani nativi e gli orcire terrier importati. Gli standard contrastanti per il Silky Terrier furono sviluppati separatamente a Sinei e Vittoria tra il 1906 e il 1909, ma alla fine, furono consolidati in un unico standard nel 1926. Originariamente conosciuto come Sinei Silky Terrier, è stato ribatezzato Australian Silky Terrier in Australia nel 1955. Uno dei primi atti dell'Australian National Kennel Club fu quello di raccomandare all'American Kennel Club Association uno standard di razza nazionale, tenendo conto della registrazione di una razza setosa, al fine di evitare ulteriori discrepanze tra gli standard precedenti. Storia della razza. Gli antenati dell'Australian Silky Terrier includono lo iorcire terrier e l'Australian Terrier, che discende dai terrier a pelo ruvido portati dalla Gran Bretagna in Australia all'inizio del XIX secolo. Pochi documenti indicano se i primi cani fossero semplicemente Australian Terrier, nati con capotti setosi, o se ci fosse un tentativo di creare una razza separata. Secondo l'American Kennel Club, la razza è stata creata alla fine del XIX secolo quando gli orcire terrier furono incrociati con gli Australian Terrier. La razza era inizialmente conosciuta come Sinei Silky, poiché si trovava principalmente nella città di Sydney, in Australia. Sebbene la maggior parte delle altre razze australiane fossero cani da lavoro, il Sinei Terrier è stato allevato principalmente come animale domestico e compagno urbano, sebbene sia anche noto per uccidere i serpenti in Australia. Fino al 1929, l'Australian Terrier, l'Australian Silky Terrier, e lo iorcire Terrier non erano chiaramente definiti. Dopo il 1932, in Australia furono proibiti ulteriori incroci e nel 1955 la razza fu ufficialmente chiamata Australian Silky Terrier. La razza è stata riconosciuta dall'Australian National Kennel Council nel 1958. Durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, le truppe americane di stanza in Australia portarono negli Stati Uniti diversi terrier di seta. Le fotografie dei giornali della razza nel 1954 hanno suscitato un'impennata di popolarità e centinaia di cani sono stati importati dall'Australia negli Stati Uniti. L'American Kennel Club ha riconosciuto la razza come Silky Terrier nel 1959, così come l'Unité Kennel Club nel 1965, dove è stato introdotto come terrier, è anche riconosciuta dal Canadian Kennel Club come un terrier setoso. La razza è riconosciuta da tutti i principali Kennel Club del mondo di lingua inglese e dalla International Kennel Federation come numero 236. È anche riconosciuta da vari piccoli Kennel Club e dalle società di registrazione della razza online. Manutenzione e cura. Il Silky Terrier dovrebbe essere nutrito con cibo di qualità appropriato per l'età del cane e ideale per razze piccole o toy. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso o sulla salute del tuo cane. Il pelo di un terrier di seta, dovrebbe essere spazzolato almeno due volte a settimana con una spazzola o un pettine. Un pettine a denti lunghi può essere utile anche per rifinire accuratamente le aree in cui può verificarsi confusione. I peli arruffati lasciati incustoditi sono scomodi per il tuo cane, e possono causare problemi alla pelle. Le unghie dovrebbero essere tagliate una volta al mese, e un bagno dovrebbe essere fatto ogni 4-6 settimane con uno shampoo per cani delicato per aiutare a mantenere il pelo e la pelle puliti e sani. Le sessioni di toelettatura sono un buon momento per esaminare il cane alla ricerca di nuovi grumi o problemi alla pelle, e per assicurarsi che gli occhi e le orecchie siano sani. Il terrier di seta richiede più esercizio rispetto alla maggior parte delle razze di tipo giocattolo. Intelligenti, coraggiosi ed energici, hanno bisogno di persone che sappiano incanalare questa energia nell'esercizio e nell'allenamento quotidiano. I terrier setosi possono adattarsi bene a qualsiasi situazione della vita, ma hanno bisogno di proprietari, che abbiano il tempo di prestare loro attenzione, a loro non piace essere ignorati. Affascinato dalla bellezza della razza, i proprietari possono viziare l'animale domestico e lasciare che il terrier di seta si comporti in modo inappropriato. È meglio stabilire delle regole e rispettarle. Questa razza ha un forte istinto di caccia, quindi il guinzaglio è essenziale quando si cammina all'aperto. Salute. Mentre i silky terrier sono generalmente cani sani, ci sono alcune considerazioni sulla salute e sulla genetica specifiche della razza. Gli allevatori responsabili controllano le loro mandrie per le anomalie a cui la razza può essere soggetta, tra cui la dislocazione della rotula e le condizioni degli occhi. Le orecchie del terrier di seta dovrebbero essere controllate regolarmente per segni di infezione e i denti dovrebbero essere lavati frequentemente con un dentifricio progettato per i cani. Visite veterinarie regolari per controllare e controllare i parassiti aiutano a garantire una vita lunga e sana per il tuo cane. Prezzo e come acquistare correttamente. L'acquisto di terrier di seta dagli allevatori può essere proibitivo. Di solito costano tra 800 dollari e 3.500 dollari. Linea di fondo. Australian Silky Terrier, o Australian Snacket Terrier, una razza di cane. La storia dell'Australian Silky Terrier inizia alla fine del XIX secolo. Gli antenati del Silky Terrier sono cani come lo Sky Terrier, lo Yurcire Terrier e l'Australian Terrier, che porta il sangue del Norbit Terrier, del Cairn Terrier, e del Dandy Demon Terrier. La razza è stata registrata dal Kennel Club nel 1933, ufficialmente riconosciuta negli Stati Uniti nel 1959.